E' guala ragazzi stavolta non ho fatto non voglio nemmeno parlare di premesse o di cosa o di altre cose vi faccio vedere direttamente il risultato quanto è bello vi dico è bello con tre lo proprio allora io come sono arrivato a questo software cioè è bellissimo io penso che sia tra i software forse graficamente che danno un tocco al proprio desktop in una maniera impressionante cioè voi vedete pensate che è uno sfondo ci ho messo solo il pesce no non è vero eccolo qua eccolo qua tutto cliccabile c'è anche l'audio avete sentito? ah qui scusate allora analizziamo si chiama desktop x e allora di che cosa si tratta? modifica proprio radicalmente l'utilità la funzione del proprio desktop e lo rende in poche parole tridimensionale non è diverso dal quel tridimensionale diciamo che vi ho fatto vedere nel primo nel primo nel primo video questo è un tridimensionale non lo so è più bello per me è molto più figo perché quello è un 3d questo è un 3d diciamo di prospettiva infatti vi faccio l'esempio prendiamo twitter qui vedete com'è più grosso c'è un'altra forma diciamo un'altra forma qui è più grosso e qui è più piccolo come se fosse tipo in prospettiva il cestino la stessa identica cosa la stessa identica ehi perchè non ah ecco qua è cambiato la stessa identica il consumo di RAM non è nemmeno così tanto eccessivo si può personalizzare come si vuole come si vuole guardate come grande piccolo grande piccolo è è stupendo è stupendo potete personalizzarlo come volete perchè film rete giochi video immagini desktop computer l'orario l'orario anche qui ne ho messi due così per farmi il figo il il tempo il tempo poi di che cosa il cerchio il motore di ricerca direttamente qui logicamente se questa g si indovinate di che cos'è di googles o di gogle come lo volete chiamare voi eh lo svago ho voluto mettere qua per esempio il chat lo svago qui software che alcuni software alcuni software che uso le animazioni sul software eccolo qua e che c'è da dire più la stessa cosa qua una specie di start un pochino più grosso iberna cerca internet chiudi home page qua ci abbiamo riavvia un'altra barra i software in esecuzione in questo momento cioè cantassi a studio e cerca eccolo qua ma è tutto bello un altro gadget carino todolist cioè a come cazzo todolist è un e dai cazzo non mi ricordo più come funziona l'ho scaricato proprio in questo momento due minuti prima di ah ecco devo cliccare su più che vergogna clicco su più e che cos'è questo è una specie di appunto di block notice queste cose qua alta importanza media importanza bassa importanza metti al completo quando ti capita ti capita e io ci scrivo vicious add new task high priority eccolo qua vicious punto fare caffè con l'accento sulla e eccolo qua fare il caffè mettiamo pure ci vogliamo mettere ecco qua lo vogliamo modificare pure questa abbiamo cioè lo possiamo modificare come volete e questa è la cosa bella e non ci sono dico questo tema che si chiama Colussus 3D ce ne sono tantissimi ce ne sono pur upish upish purce ci sono tantissimi temi tantissime cose da poter modificare e guardate forse a me che non mi piace lo spreco di ramming a cazzo non mi piace tanto la viciosità e la figaggine del desktop e tutto il resto questo programma mi ha veramente colpito in tutto e per tutto ci sono pure gli hard disk che vi dice direttamente quanto è usato qui perché sta andando così ah voi vedete che l'hard disk qua cammina da solo come fai e perché sto registrando ecco perché automaticamente occupa spazio di hard disk adesso io vi lascio non so che cosa dirvi con questo software che solo deve essere deve essere personalizzato cioè voi prendete il tema prendete i gadget ah tasso destro su qualsiasi punto avete qua i programmi direttamente direttamente avete i programmi configurazione eh ecco qua pannello di controllo risorse di rete avete tutto in più avete pure desktop builder e non c'è da dire niente più questo penso e forse l'ho messo come ultimo tipo come ciligine sulla torta perché tra i quelli che mi hanno colpito di più benissimo signori io vi ringrazio tanto questo è stato il mio ultimo video grazie per la vostra pazienza per le 3-4 persone che mi hanno che hanno che hanno diciamo messo in pratica le mie video guide e e poi niente farò un ultimo video una specie di video blog non so come come si può dire con le conclusioni e tutto quanto e basta e ringraziarvi ancora della vostra disponibilità e chi mi segue anche in pochi vi ringrazio tanto arrivederci al prossimo e ultimissimo video ciao ciao ciao